E' Monica Martinelli la donna di Genio 2021. L'imprenditrice della 7 e 9 edizioni di Cagli è stata premiata questa mattina nella sede di Confcommercio di Pesor Urbino nell'ambito del concorso annuale organizzato da Terziario Donna che valorizza chi si è distinta per creatività imprenditoriale al femminile. La giuria di concorso ha premiato la Martinelli fra sei finaliste, ovvero Nicoletta Tagliabracci, ambasciatrice dell'Eno Gastronomia Territoriale Eleonora Antonelli e Michela Valdinocci, ideatrici del progetto Il Grano e la Zizzania Orto Sociale e Culturale, Claudia Corbucci, titolare di Tisana Parafarmacia Olistica, Giuditta Mercurio, ideatrice del progetto Allenarsi al Benessere per le pazienti con pregresso carcinoma mammario e Malgorzata Maria Bartman, titolare del progetto negozio Soap Gosia, prodotti cosmetici e per l'igiene rispettosi dell'ambiente. Sono state selezionate sei imprese, è stata una scelta difficile perché erano tutte molto molto brave in vari settori, dalla cultura all'enogastronomia, per cui queste donne ricoprono un po' vari settori. Abbiamo dato questo premio a Monica Martinelli perché abbiamo pensato che è un premio innovativo riguarda l'editoria al femminile e soprattutto anche un'editoria particolare che parla, che diciamo vuole entrare in quel difficile settore che è la violenza sulle donne e per cui ci sembrava veramente un premio giusto. La vincitrice del premio Donna di Genio 2021, il premio del terziario Donna, è Monica Martinelli che è la titolare di 7.9 Edizioni, una casa editrice che ha sede a Cagli. Allora innanzitutto complimenti, raccontaci un po' di questa casa editrice perché si chiama 7.9. 7.9 è una casa editrice nata a Cagli nel 2013 e il nome deriva da una convenzione internazionale per noi molto importante. Nel 79 è stata emanata la CEDAV che è la convenzione internazionale contro ogni forma di discriminazione e violenza contro le donne che per la prima volta individua lo stereotipo di genere come seme della violenza. 7.9 è una casa editrice che fin dall'inizio si è occupata di contrastare la discriminazione e la violenza di genere attraverso i libri per l'infanzia attraverso strumenti educativi, narrativa, tutto legato molto al mondo della educazione e della formazione e lavoriamo proprio sui pregiudizi e sugli stereotipi di genere quindi riteniamo che questa convenzione sia proprio un inizio che purtroppo è rimasto ancora poco attuato, insomma deve essere ancora implementato ma anche noi lavoriamo per questo. Invitiamo, Patrizia, le donne che hanno un'attività imprenditoriale particolare oppure le amiche a iscriversi per la prossima edizione. Sì, certo, vi invitiamo per la prossima edizione del 2022 a iscrivervi perché noi appunto cerchiamo sempre imprenditrici di genio che vogliono vivacizzare il nostro territorio e essere con noi, con il nostro terziario donna per cui speriamo che queste imprenditrici possano portare un bellissimo apporto.